aria messi salta la fonta e regala un gol fantastico alla pc per il messi è buon e buon e buon le fasi del messi e che dire il è buon il è buon il ballon messi ora è buon l'osso che realizzano Neymar e messi questo sera la nuova passazione Dez wait for the return and strokes it in, that is a super goal of the highest quality Jonathan, people need to Nel, il centro rotare il beat legalizzazione del messi Neymar in to the box messi first time shot into the net and inside five minutes paris san german take the lead here their first shot on goal messi se frappe eeeeh eeeeh La seconda scena del match è perfumato Neymar in toriano Se metà post in estia, il placè del messi Un gol Nel, Lionel Messi ha preso la sua fragilità E ovviamente Loveli, surely the second goal Oh, they passed their way through the defense just as we thought that that was a messi Fortsat messiii Dole To Paris changement Messi suderside Gør det Messi e Mbappé Messi, Messii Oh, so lyner De Meckens che venstre ben igen Call for a pause, 4 Long range effort And a stunning goal From who else But Lionel Messi Oh 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.